buongiorno ragazzi benvenuti in questo nuovo video questa mattina andremo a pescare al lago verde di piacenza è la prima volta che andiamo a pescare in questo posto ci andremo insieme al mitico capitan gui francesco e speriamo di fare qualche bella cattura a tra poco eccoci arrivati al lago stiamo già in pesca con capitan gui stamattina è particolarmente in forma quindi non vediamo l'ora di vederlo all'opera speriamo di fare qualche bella cattura mi ha seguito fin qua senta l'altra camera per se penso che i pesci gatti oggi Eccolo Dopo un'oretta di pesca siamo a cinque catture, abbiamo visto anche una bella trota presa dal mitico Capitan Gui, speriamo che arrivi anche magari una bella cattura big, una bella big che la prenderà lui. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Bravo! Grazie per la visione! 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 Anche questa giornata di pesca è giunta al termine, abbiamo preso tante belle trote e adesso ci riposiamo un po'. Grazie per la visione! Grazie a tutti!